Professore Sgarbi, siamo all'interno del Museo Regionale di Gela, una città di 75.000 abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più. Come si salva? Si salva riveditando quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo. Io da tempo incontro Crocetta perché ho una specie di turbamento personale. Mi dispiace che uno stia cinque anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della regione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé. Sparisce come fumo. Lui ho detto che negli ultimi due anni se gli ne mancano due cerca di fare qualcosa è un individuato Morgantina con uno dei luoghi su cui può intervenire. Ma io credo che se lui, l'imperio, annulla quell'inutile e brutto progetto per il museo della nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela, prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettono tutte le opere nel massimo dello smalto. Però occorre a qualcuno che non... lo dico perché avendo fatto un museo, ho fatto il museo della mafia e il museo della follia, il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti, ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio e se voi andate a vedere il museo della follia lo vedete. Non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento, ma io credo che con due milioni di euro, che sono una cifra forse a disposizione della regione, uno possa fare un museo perfetto entro il tempo della scadenza di Crocetta. Io lo sfido a farlo. Ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure? Non è che mi viene venuto in mente in questo momento questa cosa, per lui lo dico, non per me. Ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri sì? La gente può perdere tempo, vogliono guadagnare quattro soldi, quindi obiettivamente. L'articolo della Costituzione, adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Ainis, La Costituzione è la bellezza, indica che la Repubblica forata sul lavoro. Ma sono uno scemo che lavora. Cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente, ma quando viene da me un disoccupato e mi dice voglio lavoro, dico quando sei così felice che puoi non lavorare, perché vuoi lavorare? Uno che sta in Sicilia come fa a lavorare? Non può lavorare. Non lo può dire però questo discorso aggela oggi che abbiamo un mare disoccupati, grazie allo stabilimento che va via. Ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro. Dico che nella condizione del non lavoro, cioè dell'ozium, c'è un privilegio. E' chiaro poi che qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza. Nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare. Quindi voi partite già... Finché ci sono i genitori e i nonni con la pensione, poi diventa un problema dopo. Però è anche vero che tolto il tema sociale, tutto il meridione non è evocato a lavorare. Lo dico per rispondere alla domanda, poi io sono uno che lavora e forse... Torniamo alla domanda, come la salviamo questa città? No, a parte la città, io penso come salviamo Crocetto e la sua anima? No, ci interessa più gelo che Crocetto, abitivamente. La gente che dice cose molto semplici perché tutti rivendicano il lavoro, il posto e quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cabotaggio, delle piccole cose che sono... Invece dovrebbe cominciare a immaginare più grande per la sua città e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno, non so, 500.000 persone all'anno. Se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia, cioè di ripartire, è finita un'industria e ne comincia un'altra. Però non bisogna pensare che il lavoro deve cadere dall'alto quale che sia, perché allora il lavoro ideale sarebbe prendere denaro senza fare assolutamente niente, cioè l'assistenza. Tutto il sistema assistenzialistico esiste perché il meridione non ha trovato la condizione di far fruttare la sua bellezza e quindi c'è una dimensione parassitaria basata sul fatto che teoricamente sarebbe bene non lavorare, ma soltanto alcuni posti... Perché Maracchese funziona e Gela no? Perché alcuni posti sono riusciti a conciliare l'identità dell'ozio e del piacere con quella del lavoro. Tu devi trovare questo modo. Non puoi pensare che l'industria risolve il problema di Gela. Quindi fin tanto che la bellezza non diventerà produttiva non si potrà continuare a starsene tranquilli senza fare niente traendo vantaggio dal posto in cui sei. Cioè il posto di per sé produce. Ecco, nel passato ha dimostrato... Però, professore, se la bellezza salverà il mondo perché non dovrebbe salvare pure Gela? No, perché in realtà, prima di tutto, è il mondo che deve salvare la bellezza. Se io penso ad attraverso qualcuno con un museo come questo non ci viene nessuno, quindi non basta la bellezza. Ma non lo spiega perché il critico d'arte è un museo così poco visitato? Appunto, perché non è respingente. Non è... non vedi le cose... Se tu vai a vedere il museo della follia vedi che avendo speso pochissimo uno ci va e entra volentieri è attratto, è sedotto. Quindi guarda come sono messi i cartelli guarda come sono messi i fili le luci vanno verso l'alto invece che sulle opere cioè è tutto... è tutto fatto così. Ho colpito una battuta mentre lo visitava sembra un museo ospedaliero. Cioè il criterio è quello ospedaliero. Uno va all'ospedale se non è forzato ad andarci, no. Però al mare sì. Il mare... tu vai al mare, c'è una spiaggia ecco, ma ti spiego com'è la mia visione del comune c'è una spiaggia non c'è la spendere assolutamente niente meno fai, più sei contento arrivi lì ti butti l'acqua e poi c'è qualcuno che ti porta un po' da mangiare eccetera e lì ci vanno tutti e non c'è niente all'ospedale ci vai tu, no perché l'ospedale non deve riparare una gomma ovvero è un... quindi è chiaro che dobbiamo togliere ogni elemento ospedaliero alla bellezza e farlo diventare come la natura. È una città che ha questo museo che ha le mura timolodontè uniche nel loro genere nel mondo occidentale poi ha un artista contemporaneo come Giovanni Udige eppure da tutto questo non riesce a trarre nessun beneficio. Bisogna cercare di trovare la soluzione la strada più conveniente rispetto alla valorizzazione di quello che appare di per sé bello che una cosa sia bella non basta se tu prendi... ecco, questo vaso è bello tu lo metti in questa brutta scatola bianca con una specie di ve poi al buio è come se fosse un malato all'ospedale cioè se tu, bello come sei vai in giro così ti metti la cravatta ti guardano ragazzo o guardano me e sei diverso da quando sei messo disteso in un ospedale con un buco nel naso ecco il muore... Eppure dice la stessa persona La stessa persona e quindi ognuno di noi deve essere messo in spolvero Senti, ho capito che Crocetta rimane comunque nonostante tre anni e mezzo a vuoto una risorsa per Gela mi pare di aver capito che secondo il professore... No, no, non lo so io l'ho visto ieri sera viene da me domani sera a cena dopo domani a cena quindi... ma io l'ho sfidato dopo che non so cosa sia capitato fra noi ah sì, che lui non è riuscito a risolvere il problema della fondazione Piccolo Sarà stata l'unica cosa che non ha risolto evidentemente L'ho un po' insultato in intervista lui mi ha telefonato e mi ha detto vorrei vederti per trovare delle soluzioni poi l'ho incrociato per strada ho detto guarda, a me dispiace il fatto che tu passi cinque anni come fossi aria cioè non rimarrà nulla facciamo una cosa così viene questa sfida ma al di là della politica le voglio solo ricordare ma lo sa che ha fatto anche per quasi otto anni il sindaco di Gelo quindi ne ha avuto di tempo per però se adesso che ne ha di meno se ne viene che corra ma no che la vita io di cose ne ho fatte tante ma dipendiamo sempre dalla politica per risolvere i problemi no, quello sta lì quattro soldi li puoi spendere in un modo o nell'altro non è che li puoi far spendere a lui che fa il dipendente in un museo della regione farli spendere alla regione indirizzandoli in modo giusto io non lo so poi almeno non è che io ho il problema di crocetta invece torniamo professore al problema anche culturale perché ti dicevo un'apertura a 50 anni in cui la città si è aggrappata alle spalle del Leni punto e basta e adesso lì bisogna cambiare proprio radicalmente pensiero abbiamo sbagliato diciamo dalla ricostruzione del secondo dopoguerra abbiamo sbagliato quasi tutto rispetto al paesaggio rispetto all'edilizia rispetto all'industria è stato un errore del boom economico che ha portato alcuni benefici immediati e molta gente si è arricchita e ha portato a non risolvere il problema della povertà e del lavoro ma questo è un dato oggettivo però non è che possiamo ricominciare adesso cioè dobbiamo meditare al fatto che abbiamo perso 40 anni circa bisogna vedere cosa rimane quali sono le rovine su cui ricostruire è un luogo dove le rovine sono la memoria storica è un luogo al cui puoi pensare di ricostruire ma non mi pare che si è messa meglio neanche a Grigento forse Ragusa l'area intorno a Modica Scicli ha trovato un po' di riscatto nella insomma però la bellezza ci vorrebbe un montalbano anche da queste parti ma soprattutto bisogna far sì che la bellezza produca l'effetto di cui parla lo sto rieschi però lo può produrre se è veramente bella se tu prendi una bella ragazza la graffi tutta la metti spogliata abbandonata ti sembra una poveraccia tu invece la valorizzi la bellezza è la stessa cosa senti ma se invece del Presidente della Regione Crocetta fosse un altro gelese a chiederti di collaborare per esempio il Sindaco di Gela ma gli ho parlato anche lui però poi gli ho parlato dal primo giorno in cui è stato nominato a Salinitro che è venuto a trovarmi poi non l'ho più sentito poi ho parlato ho difeso il Sindaco quando gli hanno intimato di dimettersi per cui io sono disponibile certo non è che posso continuare io non ho bisogno di bussare non lo dico per orgoglio perché è assolutamente pieno di cose e se uno non mi chiede di fare qualcosa io non è che corro per chiederglielo perché ho tutti i giorni occupati però se me l'avessero chiesto avessimo pensato di fare un progetto comune io sarei stato assolutamente disponibile quindi poi non è che oggi si possa risolvere nulla però dico alcune cose così importanti non si risolvono con un brutto museo in più cioè l'architettura del museo è già il segno di un errore di partenza rispetto alla bella idea della nave ci vuole uno spazio meno costoso più semplice più attraente io suggerirei per Gela di ricorrere non a me o perlomeno a me se uno vuole dei consigli ma all'operatività di questo bravissimo scenografo che ha lavorato per Maresco che si chiama Cesare Inzerillo che è quello che ha fatto il museo della mafia che è uno che con poco può fare molto e questo il talento è questo fare una cosa ben fatta e non fare un ospedale l'ennesimo ospedale senti in sintesi cosa verrai a dire ai gelesi oggi in questa tua visita ho un libro quindi non dico niente nessun messaggio ma non mando messaggi non sono un profeta mi pare buono il messaggio del Papa che la Chiesa si faccia povera in effetti dura è molto dura grazie a tutti